bentornati sul canale di anime dal mondo io sono alex come sempre questo è il canale che fa per voi perché qua si parla di modellismo come realizzare le cose tante cose action figure di orami insomma tutto quello che vi serve per la vostra collezione o solamente per divertirvi e creare qualcosa da zero io ve lo porto qui sul canale se ne avete bisogno e se mi va anche a me diciamolo come le cose come stanno insomma ma qui oggi parliamo di una cosa in veste non ufficiale non neanche la mia maglietto la mia felpa normalissima di anime dal mondo ma perché è una cosa così per parlare e ne parliamo ora sì dal titolo non si capisce molto bene però assolutamente è un argomento a cui tengo perché lo fanno in tanti è vero ma credo sia anche utile perché è una cosa che un po ci fa conoscere a vicenda e un po invece aiuta anche quelli che ne hanno bisogno e con questo video non vi racconto niente di strano ma vi chiedo di lasciare qua sotto tutte le domande che volete ovviamente arriverò un certo numero poi dirò basta e dovrò sceglierle almeno almeno per quello che mi riguarda per riuscire poi a rispondere con un video effettivamente a quelle che sono le vostre domande ovviamente non state sul personale se ci scappa sappiate che probabilmente non risponderò ma dipende insomma dipende da quello che chiedete ma se avete qualche dubbio se volete qualche risposta non sapete cosa fare perché siete non so a metà di un lavoro non sapete come andare avanti ecco potete scrivere qua sotto questo video tutte le domande che volete faremo una sorta di più e nei come succede spesso in altri canali e risponderò a tutte le vostre domande magari riuscendo a darvi riuscire a darvi una risposta alquanto il più plausibile possibile ma soprattutto che vi dia una mano quindi mi raccomando qua sotto scrivete le vostre domande di qualsiasi tipo inerenti ovviamente al modellismo a cose da realizzare a mano se appunto state realizzando qualcosa e vi siete siete incappati in qualcosa che non riuscite a fare quindi scrivetelo qua sotto e io nel prossimo video o quando riuscirò ad avere un certo numero di domande vi risponderò molto molto volentieri soprattutto se avete anche qualche consiglio da darmi su video in particolare da fare volete qualcosa di particolare sul canale da vedere scrivetelo anche lì e poi lo metterò insieme a tutte le domande e magari ad alcune potrò dare una risposta subito per altre magari ci vorrà addirittura un video quindi mi raccomando scrivete qua sotto e io sono arrivato alla fine così oggi sono così in desabini e e tra l'altro devo anche riparare un bambolotto che è un bambolotto molto vecchio non so se si vede ma ha perso la testa mi ha visto ha detto mamma mia che brutto ed è ha perso la testa quindi lo devo riparare prima o poi lo riparerò sembra sembra brutto è però io ve lo metto qua perché è un bellissimo bambolotto sembra quasi vero toccarlo mamma mia una roba incredibile non guardate non guardate da brutti svergognati comunque la prossima volta che capitate su questo video mi raccomando scrivete qua sotto le domande anche se è più di una non è un problema perché insomma cercherò di fare il possibile per darvi così tutte le risposte possibili immaginabili e chissà poi magari faremo anche un video apposito per alcuni argomenti quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e cliccate la campanella perché anime dal mondo e alex sono qui ad aspettare le vostre domande al prossimo video ciao ragazzi ciao